Ecco il mio nuovo look. Che te ne pare? Hai un aspetto feroce. E mi sento anche feroce. Però dovrò sbrigarmi quando uscirò di qui. Penso di avere meno di un minuto prima che il sole mi sciolga e io rimpicciolisca. Beh, un minuto può bastare. Li vedi quei tre chiavistelli? E il meccanismo che li controlla? I tuoi obiettivi ho ricevuto. Salve YouTube, vi sono una puntata di Knack. Allora, andate nei chiavistelli considerando che appena usciamo da qua la nostra bella armatura di ghiaccio va gradualmente a farsi benedire. Vieni, cominciamo. Ebbè, quello lì mi ha bellamente disintegrato. Vabbè, c'è un po' di ricarica, non so vero. Mettiamo lo sconto dove non è necessario. Devo subire un colpo giusto per... Ok, quindi tutte le volte riparto da qua. Quindi, va vedendo un minuto a Cristella. Ok, me la sto giocando veramente male. C'è un po' di ricarica in serie. Ok, e due. Ok, poi ripartiamo dalla caverna. Ne resta solo uno. E andiamo a fare l'ultimo. Ok. Ok, questo ciccione qua è morto. Abbiamo l'ultimo che è il cell. E ci si apra il portone. Bene. Ebbè, sennò, dov'è il dirattimento? Dentro la fortezza. Facciamo un po' di goblet. Spendiamo un po' di magia. Anche in chi ti ho stare attento per le cose minchiate per non perdere energia per niente. Vabbè. Senti, a cielo, ora hai rotto le balle. Muori. Ma, ma mi stai... Ehi, Peppettino. Ci sono delle pezzi qua dentro. Ok. Sono piccolino. Ricordiamo che sono piccolo ancora. Non posso andare allo sbaraglio. Devo prima schivare e poi attaccare. Ok. Esatto, così. Con un'altra cassa. Bella. Ho preso la bomba in piena. Ammazza se festa, no? Non posso stare più attenzione. Oh, oh, oh. L'ho preso. C'è una scorreggia di vita. Ho riporto un po' di vita, va? Bombalaro, scusa, eh. C'è un paio di cose da dirti. Trappole... ...pericolosissime. Cioè... Mi sto... ...cagando in mano queste trappole. Ok. C'è un paio di... C'è un paio di... meglio esercina a uscire muoio va un po' di vita non ci sono segreti ok qua c'è il mio bombarolo ok sono aperti siamo piena vita prendetelo perché lo stronzoni mi attacca? va ecco le sto sulle balle a tempo zero però mi stanco ancora più sulle balle come fa a morarsi liberamente nella fortezza dei goblin? non l'hanno catturato insieme agli altri perché qui ci sono domande quanti con buff? per prendere schiaffi no no nooo che sbaglio d'errore vabbè prendiamo piena di terra almeno quello sono quelli che ci hanno tempo da aspettare oh ma la martello anche te ci saranno queste cose oh segreto bene quanto segreto preso poca roba ma qua c'è da un po' la fungista attenzione un nemico nuovo ok secondo cristallo l'abbiamo caricato quindi abbiamo già due possibilità di usare la magia un golem fatto di reperti coraggio provaci ancora ah boss fight signori boss si trova il momento giusto per entrare nella difesa e anche il boss può venire sconfitto vabbè mi ha sopporto un po' di spaccio l'ultima bomba fai niente ah qui ci diamo anche un add cambio su pacca e attacca 1 2 3 4 e quindi vediamo la difesa ammazza che boss caga sotto che abbiamo un quarto schiaffi scappi mettiamo un settino sti cosi è quello con la fusta però lo posso un caga sotto mica da ridere l'energia del ok signori direi che un appunto di oggi può finire qui andremo a finire la caccia al boss nel prossimo episodio se vi è tutto bye bye